Ok ragazzi possiamo andare avanti con il progetto In questa parte di video andremo a vedere come montare un kit a led a casette per la mitozza Ma diciamo la procedura di montaggio va bene per qualsiasi tipo di vettura Noi andremo però a vederlo su un faro per una forma mito Qui abbiamo un kit a led S-Lux di Xenon per tutti 6000 Kelvin puri, bianco veramente puro Già li ho provati sulla Smart 453, vi lascio il link in alto a destra E sono ovviamente testati su mito Centraline per mito Hypercambus 17000 lumen power quindi 8500 lumen a lampadina Centraline fatte veramente a moto, tanta roba Con il tappino per richiudere il faro una volta aperto Kit di montaggio con le istruzioni Poi dentro ci sarà adattatore a casette, questo ci servirà per fissare la lampadina Questo è il pezzo forte che è la lampadina, B-LED LED da una parte e un LED dall'altra Ventolina Tutto perfetto Inoltre abbiamo due fascette Che potrebbero servirci E questa è una striscia biadesiva penso per la centralina in caso non volessimo fissarla con le fascette Quindi cominciamo subito con il montaggio dopo l'intro Dunque siamo pronti quindi a montare i nostri anabaglianti Come prima cosa rimuoviamo la presa della lampadina originale Che è questo adattatore nero grosso Per rimuoverlo basta praticamente con un cacciavite piccolo andare a allargare quella linguetta che vi ho indicato E così facendo il morsetto con gli spinotti esce fuori Dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice Ci ho messo un minuto Niente di così complicato Come potete vedere da fuori non ci sono riusciti Inserendola invece da dentro Si è levato veramente subito senza rompere nulla Quindi è tutto riutilizzabile Questo va rimosso per semplice sicurezza In quanto la molla può fare contatto da qualche parte Quindi è sempre meglio toglierla Una volta fatto ciò rimuoviamo il ring nero Che ci permette di tenere salda la lampadina sul nostro porta lampada del faro Utilizzeremo un adattatore a casette che viene fornito nel kit Molto molto semplice Io vi consiglio di schiacciarlo bene così che riusciate a fare la rotazione dell'adattatore sul porta lampada più facilmente Come potete vedere E non mi piace come viene il lavoro Quindi questi Valeo non li utilizzerò Scusatemi della Depo Però stessa cosa vale per i tappi della Valeo Quindi ho comprato questi tappi su Amazon Vi lascio il link in descrizione Da 83 mm Combaciano abbastanza bene Non sono super aderenti Però mi accontento Purtroppo è un prodotto aftermarket Se proprio volete Comprate una versione più piccola Da 75 mm Che poi adatterete al faro A me non mi andava di fare tutto questo lavoro Quindi ho optato per questa versione Questo è il tappo Come potete vedere è conico Vuoto all'interno Ho anche 4 buchi volendo per far passare i cavi Volendo si può bucare direttamente qui fuori Però non è il mio caso Non mi interessa Sono da 83 mm Però vi faccio vedere già da qui Quindi combaciano alla perfezione Sono veramente perfetti Continuiamo quindi con l'installazione dei nostri anabagnanti E andiamo ad effettuare il taglio del nostro nuovo tappo Ovviamente io la misura l'ho presa da un vecchio tappo Dei vecchi fari Quindi mi sono ritrovato praticamente con le misure già fatte Ma comunque non è così complicato Prendersi le misure del foro Con una forbice facciamo un piccolo buchino Dove inserire la punta della forbice Per andare poi a intagliare il cerchio Fatto questo Inseriamo i cavi delle centraline Non fate caso ai cavi aggiuntivi E una volta fatto passare i cavi delle centraline Facciamo combaciare questa guarnizione Dove passano i fili Siamo pronti quindi al collegamento Più e meno Da collegare sullo spinotto Colleghiamo l'altro spinotto E tutto è fatto Se non avete il più e il meno Sul cavo del faro Trovatevi lì con la lampadina Tanto essendo a led Se sbagliate Semplicemente non si accende Mettete il morsetto nell'altro verso Ci ritiriamo i cavi nella lunghezza corretta E praticamente l'installazione finisce qui Ok ragazzi siamo giunti Al momento di farvi vedere Come ho installato i anabaglianti Per semplicità non ho registrato La parte in cui montavo le centraline Comunque come potete vedere Quello è il tappo Dietro al faro degli anabaglianti I cavi salgono qui E poi qui abbiamo la nostra centralina Fissata sul telaio Non dovrebbe scaldare molto Questo tipo di centralina In ogni caso sta sulla lamiera E sta bene lì Stessa identica cosa Da quest'altra parte Ci sta il tappo Lì sotto lo vedete Ok I cavi passano qui dietro E la centralina sta attaccata qui Sulla lamiera Vediamo se funzionano Ovviamente ragazzi Nessun errore sul computer di bordo Spero che si veda Zero errori Ok ragazzi siamo quindi giunti Alla conclusione del video Abbiamo visto gli anabaglianti Come sono montati Come si montano Nella maniera corretta Magari in un prossimo video Vi faccio sapere Come ho regolato i fari Soprattutto per come si regolano i fari Dell'alfa romamito Ovviamente è un tipo di regolazione Tra virgolette Casalingo Non è una cosa Stra precisa Però può dare un'idea Di come è regolato il faro E quindi niente ragazzi Nel prossimo video Vedremo la recensione Di questi anabaglianti Come rendono su strada E niente Il video finisce qui Ringrazio ancora Xenon per tutti Per la fornitura degli anabaglianti Che vi lascio il link In descrizione Inoltre vi ripeto Come sempre Contattatemi per lo sconto Se volete acquistare Queste lampadine O anche Qualche altro tipo di lampadina Quindi niente ragazzi Seguitemi su Instagram Mitch Tuning Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Come sempre Commentate Per questo video è tutto ragazzi Mitch Tuning vi saluta Ciao a tutti Ciao